Parliamo ora di economia, una collaborazione pluriennale che mette al centro le esigenze delle piccole e medie industrie. Da questi rapporti consolidati nasce e continua una collaborazione tra apindustria e biperbanca con l'obiettivo di offrire condizioni preferenziali alle aziende associate. Sappiamo che imprese e banche talvolta hanno visioni diverse del credito e approcci che non sempre sono in sintonia ma l'unico modo che vediamo per lo sviluppo di entrambi i soggetti è la collaborazione, ha dichiarato Elisa Govi, vicepresidente di apindustria a Mantua. Questa intesa troverà attuazione grazie ad un rapporto forte tra la struttura dell'associazione e le filiali dell'istituto di credito, aggiunge Elisa Govi. Il testo della convenzione prevede condizioni agevolate per l'erogazione di finanziamenti a favore delle imprese esportatrici, cosiddetto special export, l'erogazione di finanziamenti con garanzia del Fondo Europeo per gli investimenti, di finanziamenti assistiti da garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.